L'elemento del paesaggio è l'elemento che più caratterizza l'identità della Toscana. Siamo noti, la Toscana è nota per tanti motivi, per le opere d'arte, per i centri storici, per il patrimonio, per tutta la parte dell'enogastronomia, ma il paesaggio lo racchiude tutti. L'idea di Toscana è racchiusa nel paesaggio toscano e 50 anni di paesaggio vuol dire vedere diacronicamente come cambia il paesaggio, come cambia la Toscana, come cambia l'Italia e questo rende la mostra particolarmente interessante non solo per i tecnici ma per tutti quanti. Promuovere, diffondere, divulgare e far vedere a tutti il paesaggio toscano vuol dire richiamare nel mondo l'idea di Toscana.